Hi everybody! Oggi voglio darvi alcuni utili consigli per avvicinare i vostri bambini alla lingua inglese. Non è difficile, bastano poche espressioni ripetute durante il giorno. Per esempio, al mattino quando ci alziamo, possiamo dirgli Good morning! Per uscire di casa e andare a scuola, Let's go to school! E se gli vogliamo chiedere di sedersi, Sit down! Se hanno messo in disordine e hanno finito di giocare, diciamogli Per favore, raccogliete i vostri giochi. E se hanno lasciato la luce accesa, diciamogli E alla sera, quando siamo stanchi, diciamogli semplicemente Let's go to bed. Good night! Bene, cominciamo con questi. Si conclude qui il nostro primo video di inglese dedicato ai bambini. Ce ne saranno tanti altri. Cercherò di darvi utili consigli per avvicinare i vostri bambini alla lingua inglese. See you next time! Bye bye! Bye bye!